Questo programma è offerto da Formazione SRL Learning Center via Domenico Morelli 49, Napoli Ben trovati con l'informazione di Napoli Village News in redazione Raffaele De Lucia Fedeli sotto shock, stamane un uomo di 70 anni è entrato nella chiesa di Santa Maria dell'Arco a Villa Ricca e ha cercato di tagliarsi la gola con un taglierino L'anziano subito soccorso dai fedeli attoniti è stato portato in ospedale dai soccorritori del 118 chiamati dal parroco Sgomento da parte dei parrocchiani presenti, Don Gaetano Bianco su tutti L'uomo ha riferito il parroco non ancora ben capito il perché si sia voluto togliere la vita Ancora non sono chiari infatti i motivi del folle gesto A quanto pare negli ultimi giorni la vittima era angosciata dopo aver ricevuto un ordine di demolizione per una sopraelevazione abusiva realizzata nella palazzina dove vive Mura esterne ripulite ma il degrado e l'abbandono all'interno del monastero di Santa Chiara continuano ad offendere il monumento trecentesco voluto da Roberto D'Angio Mura tutte imbrattate con scritte di vari colori, sporcizia lungo i bordi dei giardinetti siringhe di tossicodipendenti usate e abbandonate il cortile come un campo di calcio e naturalmente neppure l'ombra di un vigile urbano che ispezioni la zona Insomma per il complesso ecclesiastico simbolo di quella Napoli antica che si pone come meta consueta di turisti e amanti dell'arte poco o nulla sembra essere cambiato dopo la pulizia del campanile avvilisce il disinteresse delle istituzioni di fronte al proliferare dei fenomeni vandalici seppure più volte si sia resa nota la situazione di degrado che riguarda il campanile i giardinetti e le mura del monastero E' cominciata stamattina la rizzollatura totale del manto erboso dello stadio San Paolo di Napoli Fin da ieri notte la ditta fornitrice delle balle di erba aveva inviato a fuorigrotta i tir contenenti il nuovo prato da stendere sul terreno di gioco La rizzollatura costerà intorno a 200.000 euro e terminerà sabato poi ci sarà la manutenzione in vista della gara con la Juventus primo banco di prova per il nuovo lenzuolo d'erba su di un materasso che gli agronomi però hanno già definito compromesso Infatti la prossima estate sarà necessario rifare il massetto di terriccio e una nuova rizzollatura in vista della prossima stagione calcistica Nella stessa settimana in cui cade annualmente la giornata nazionale del brail il 21 febbraio il museo della cappella San Severo offrirà la straordinaria opportunità ai non vedenti e agli ipovedenti di partecipare per la prima volta in assoluto alla visita tattile al Cristo velato uno dei più singolari capolavori della scultura di tutti i tempi e ai bassorilievi della pudicizia e del disinganno La soprintendenza si fa promotrice di questo progetto nato dall'esigenza di rendere l'arte fruibile a tutti Presentata stamane la nuova sede del Movimento Arancione Inviato Ledo 292 a tenere a battesimo il nuovo quartier generale il capolista di rivoluzione civile alla Camera dei Diputati nel Collegio Campania 1 Antonio Di Luca e il numero 2 al Collegio Campano del Senato della Repubblica Pier Giovanni Alleva Nel corso della riunione presenti anche una delegazione dei 19 metalmeccanici della FIOM reintegrati in fabbrica Italia a Pomigliano Il rilancio del porto di Napoli passa dall'accelerazione delle procedure per sbloccare i fondi che oggi non si riescono a spendere è quanto ha affermato il capolista di scelta civile in Campania Luciano Cimmino nel corso del dibattito che si è tenuto ieri tra la lista montiana e gli armatori napoletani e salernitani a bordo della TTT Line Trinacria Il problema delle buche a Napoli invece è al centro dell'iniziativa del PDL contro il dissesso stradale a scendere in campo Peppino Calderisi candidato nella circoscrizione Campania 1 ieri sera a Ponticelli invece incontro con la cittadinanza dei rappresentanti del PD di Elisabetta Gambardella e Salvatore Piccolo La conferenza ha avuto come temi portanti il lavoro, la cultura e la legalità Attivo presso la sede regionale del Grande Sud invece inviare Naccia 29 a Napoli uno sportello legale al quale i cittadini potranno rivolgersi per costituirsi parte civile nei procedimenti penali in corso contro le aziende del Nord che hanno sversato rifiuti tossici nel nostro territorio Una candidatura forte, capace di incarnare i valori portanti del Partito Socialista tutta orientata a risollevare il paese dal baratro della crisi L'ex segretario generale della UIL Pietro Larizza ha incontrato a Napoli alle terme di Agnano il suo elettorato affrontando i temi del turismo L'ex segretario generale della UIL Pietro Larizza la UIL Pietro Larizza